E non solamente il deporte, ma anche per il barrio, per il barrio per avere un cancio che non puoi salire per l'esercizio, questo è un hobby importante. Non solamente il cancio di Rudy Busson, ma anche per il nostro base, nel nord di Salina Mese, il Valle di Nocchi, con le muri e le recchie, ora che lavorano a cominciare per andare a direzione, il Valle di Nocchi, questo è un banno di Valle di Chio, che è multifunzionale. Non solamente non solleva direzione, ma anche la direzione che è più buona, perché è un asfaltare, più moderno, con un coating special, il cammino è più migliore per non portare. La direzione è un rondo, il cammino è un luogo attrativo, perché è molto in barrio per avere un deporte. Quindi так, vogliono avere un problema di rincon, un passaggio andando, così fiamo appoggiando un taglio di extremi, trovando un container del rincon, un stadion di rincon, quindi un' przekazamento di tranquillo, una pista di drago, quindi una manzanazione, quindi nel l'anno qui si è durato di una manzanazione, una pista di drago è durata a 5, per mantenere la pista di drag, ma è una pista di drift quindi è una pista di drift, è una pista di fever mi parvisa che attualmente è l'awardo di Hopi Usa è l'awardo di Domingo, è l'awardo di Hopi Usa non solo per andare in Brombo con auto ma è una peticione di remote control di Andabon, parte di vacanze plano anche la polizia ha chiesto per andare in Brombo con auto poco a poco è facilità, è un'anno subito è un'anno subito, è un'anno subito ma è contento, è un'anno subito, è un'anno subito e ci sono più persone interessate per usare per usare il nostro paese, per il popolo, per usare il uso di Delle